Il mondo di VENT Valentine presenta Microfono a condensatore USB AUNA Arriva in una pochette con cerniera in pelle di ottima fattura Fatto di materiali di altissima qualità e resistente duraturo nel tempo Il suo design è semplice ed elegante di colore bianco presenta lo stem AUNA nella parte principale Si collega al PC tramite un KUSB che è in dotazione che si inserisce dietro al microfono In questo momento sto registrando con esso Il suono è davvero ottimo se agli alti che i bassi si sentono benissimo Incluso vi è anche il ragno E' pensato proprio per l'uso digitale Ve lo consiglio eccellente! Ve lo consiglio eccellente! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!